speriamo di farcela per me giro fuori qua è di quarta non arriva scatta 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 sasso tu hai portato il fanti 87 kg di fanti ne voleva aprire un'altra ah si di la no ma è lì su giusto poi è girata a destra no ho detto lì è girata a destra Stefano terza a manetta tutta tanto non cambia perché quarta è troppo lenta ah 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 ti ho detto 87 kg no ma cagliassi di quarta eh di quarta vabbè ma facendo al contrario eh come? facendo in giù fino avanti vorrei mica accendere lì indietro da lì indietro non ce la fai eh col codio vai non è abituata con te ah non devi andare avanti col corpo devi andare avanti la gambetta fagli vedere il Nuno hai visto? eh non lo so se riesco eh dai mi attivano che la tiriamo su saldiamo via più parcheggio dai andiamo salta su che la tiriamo su eh? salta su che la tiriamo su dai non sei giro dai non lo hai guidato vorrei spaccato un po' i parodi tanto li rompo già io da fermo quindi non c'è pericolo Non lo so, non lo compito, non lo so... C'è un pez?